Maserati 4 porta GTS, motore assemblato a mano nello stabilimento di Maranello. Si tratta di un 3.008 V8 con 530 cavalli. Tutti i pannelli della carrozzeria sono in alluminio e alcuni particolari addirittura in magnesio per renderla più leggera. Da 0 a 100 in 4.7 secondi. Velocità massima 307 orari. Vola? Eh sì, questa vola, ma in prima classe però. Qui c'è il massimo donita Igenica. We did everything right, now I'm on the outside. I'll show you what it feels like, now I'm on the outside. We did everything right, now I'm on the outside. Modellatore in legno d'acero laccato. Sistema audio addirittura con 1280 Watt e 15 autoparlanti. Climatizzatore a 4.000 Zona, cielo dell'abitacolo in Alcantara. Ma non c'è bisogno di dire che ha cambiato automatico, che ha l'interno in pelle, il navigatore. Queste cose sono scontate su una macchina di questa categoria. E all'esterno un Boeing 747 in confronto a una carretta. Carrozzeria in vernizia metallescente, cerchi in lega da 21 pollici, fare diurni a LED e fare i big seno attivi. Ma soprattutto e veramente, assolutamente, indiscutibilmente, bellissima. Un sogno. Sto cercando gli 8 cilindri. Niente da fare, io qua sento solo un'orchestra. Un sogno. Grazie a tutti